il post impressionismo è una tendenza artistica che supera i concetti dell'impressionismo conservandone solo alcune caratteristiche per andare a scavare più a fondo nella libertà del colore per avventurarsi verso strade non ancora percorse si differenzia dall'impressionismo poiché l'artista preferisce lavorare all'interno del proprio atelier quindi non più en plein air caratteristiche comune ai post impressionisti furono la tendenza a cercare la solidità dell'immagine la sicurezza del contorno la certezza e la libertà del colore particolare tecnica pittorica di questo periodo è pointillisme fra i più celebri post impressionisti vanno ricordati Georges Serrat, Paul Cézanne, Paul Gauguin e Vincent van Gogh e anche Henri de Toulouse-Lautrec che influenzeranno in modo determinante tutta la pittura del novecento. Questo periodo ha inaugurato un'epoca durante la quale la pittura trascendeva il suo ruolo tradizionale di una finestra sul mondo e invece è diventata una finestra nella mente e nell'anima dell'artista. L'impatto di vasta portata estetica del post impressionismo ha influenzato gruppi sorti durante il ventiesimo secolo come gli espressionisti così come i movimenti più contemporanei. Di questi anni è l'invenzione del cerchio cromatico dispositivo messo a punto dal francese Michel Eugène Chevrel per rendere possibile la classificazione delle sfumature di colore delle tinture in uso presso le manifatture di Gobelen. Questo scienziato che pubblicò tutte le sue ricerche nel 1839 scoprì che se si costano due colori complementari viene esaltata la luminosità di ciascuno di essi. Per visualizzare i rapporti tra i colori inventò il cerchio cromatico dove i colori complementari si trovano alle estremità opposte di ogni diametro. Questo strumento, noto già gli impressionisti e alla base delle ricerche sugli accostamenti del puantilismo. Il conte Henri-Marie Raymond de Toulouse-Lautrec-Montfas soffriva di picnodistosi, una malattia genetica delle ossa che può portare a manifestazioni cliniche simili al nanismo. Rimase alto circa un metro e cinquantadue avendo sviluppato un busto normale ma mantenendo le gambe di un bambino circa 70 centimetri. Toulouse-Lautrec morì a soli 37 anni a causa di alcolismo e probabilmente di sifilide. In questa slide possiamo vedere un confronto tra due artisti molto diversi tra di loro, appartenenti a epoche molto lontane, ma hanno in comune la morte giunta per entrambi a soli 37 anni e anche la probabile causa della morte di entrambi, cioè la sifilide, un'infezione derivante da contrazione sessuale. Due personaggi, due grandi artisti che hanno avuto un ruolo indiscusso all'interno della storia dell'arte con un destino tragico molto simile tra di loro. L'artista, fisicamente inadatto a partecipare alla maggior parte delle attività sportive e sociali solitamente intraprese dagli uomini del soggetto sociale, si immerse completamente nell'arte. Secondo un racconto a chi lo derideva per la bassa statura rispondeva, ho la statura del mio casato, citando la lunghezza del suo cognome nobiliare, de Toulouse-Routrec-Montfas. Fu definito l'anima di Montmartre, il quartiere parigino dove abitava. Rappresentò spesso la vita al Moulin Rouge e in altri locali e teatri di Montmartre, di Parigi, e in particolare nelle Maisons Cross, i bordelli, dove varie riprese fissò anche la sua dimora studio, anche se questo era vietato della legge. Qui incontrava amici e colleghi, ma è probabile che la convenzione che Routrec dimorasse per lunghi periodi nei bordelli venisse dalla comodità dell'artista di lasciare le sue opere da terminare all'interno del posto di lavoro e non spostarle continuamente nel suo studio di Montmartre, come per esempio la grossa tela di Ossalon. A quanto pare contraste la sifilide da Rosa La Rouge, una sua amante prostituta che viveva in uno di questi bordelli. Sentendosi emarginato come loro, divenne il loro confidente e testimone della loro vita più intima. Nel dipinto Ossalon sono rappresentate sei prostitute in attesa dei loro clienti, tutte completamente vestite. L'Eutrec, come al solito, è più interessato ai visi delle donne che ai loro corpi, molto generalizzati per la maggior parte coperti senza tratti di perversione o di seduzione. Le linee sinuose, ottenute con un tratto molto scuro e continuo, interpretano il gusto dell'art nouveau appartenente appunto a quell'epoca. Trascurò il lato erotico della rappresentazione, raffigurando raramente anche la clientela maschile. L'Eutrec rappresenta i bordelli per un interesse per i luoghi del divertimento pubblico, come accade anche per il Mont Rouge, e molte volte i luoghi e le persone rappresentate sono viste persino felici. Trousse-Lutrec spoglia, libera le ragazze da intenti moralizzanti e da allusioni erotiche, anzi le rappresenta come donne annoiate, in attesa del loro cliente. Certo, Trousse-Lutrec era perfettamente consapevole della vita triste e squallida condotta dalle prostitute, eppure quando le raffigurava non ostentava le loro miserie né le commentava. In effetti, tra l'artista e le prostitute, vi fu un'amicizia senza interessi, genuina, cementata nel segno di un vicendevole rispetto. L'Eutrec, infatti, a causa della devastante malattia le ossa, solo nelle Maison Clos si sentiva veramente compreso. Georges Pierre Serrat è stato un pittore francese, pioniere del movimento puntinista. Muore anche lui molto giovane, a soli 32 anni, a causa di una encefalite, infiammazione dell'encefalo, causata da virus o da agenti diversi. Serrat studiò le copie degli affreschi della leggenda della Veracroce di Piero della Francesca e frequentò il Museo del Louvre, dove, oltre a interessarsi alle sculture e alle delle civiltà fluviali, potè studiare artisti che avevano messo in pratica principi relativi alle reciproche influenze esercitate dai colori. La tecnica puntini è l'elemento essenziale della pittura di Serrat, mediante la quale si raggiunge la mescolanza ottica dei colori. Serrat non chiamò questo puntinismo, ma cromo-luminarismo o divisionismo. La sua concezione tecnico-artistica, che tuttavia verrà definita da lì a poco con il nome di neo-impressionismo, per sottolineare la differenza tra l'impressionismo originario e il nuovo impressionismo scientifico. Così come l'avvento della tecnica fotografica aveva dato precisione alla riproduzione delle figure e delle cose, anche la pittura doveva presentarsi come tecnica di precisione, sulla base di punti scientifici. Serrat partecipa all'ultima mostra dell'impressionismo, la mostra dell'86, e la sua presenza significa simbolicamente il passaggio, tra un'era ormai superata, ad una ricerca pittorica del tutto nuova. Il dipinto, bagnante ad Asnier del 1884, inviato al Salon, venne respinto dalla giuria e sarà aderì di conseguenza al gruppo di artisti indipendenti, formato da giovani artisti che si erano visti come lui respingere i dipinti dal Salon ufficiale. I personaggi rappresentati stanno nella fissità silenziosa, come delle sculture che sembrano sintetizzare in sé l'essenza stessa della vita. Armonie di linee, armonie di masse, armonie cromatiche, raggiunte con una tecnica pittorica del tutto nuova, che impiega la scomposizione ottica del colore in alcune zone, per esempio sull'erba della sponda, mentre per altre sceglie il colore puro, dato a grandi pennellate, che talvolta si riduce in tocchi sottili e vibranti di luce. La staticità e la mancanza di espressione delle figure da una parte, che sono dipinte ad ampie zone, e il trattamento impressionistico del prato e dell'acqua del fiume dall'altra, trattate a piccoli tocchi, costituiscono due visioni che si oppongono, l'architettonica e l'impressionistica, eppure trovano nel loro contrasto tra l'eterno e il fugevole, tra la solidità delle forme e il fluido della luce, una poesia solenne. La scena rappresentata è ambientata da Snier, sobborgo industriale sulla Senna, al nord-ovest di Parigi, in una bella domenica di sole. L'acqua è fresca e l'erba è morbida. Sullo sfondo del dipinto sono presenti diverse ciminiere delle fabbriche di Clichy, mentre il fumo che intravediamo proviene da un treno che sta transitando sul ponte. In primo piano un gruppo di giovani, probabilmente operai, si stanno rilassando in riva al fiume. Uno di essi, al centro del dipinto, si è tolto tutti i vestiti, è rimasto in costume, si è seduto in riva al fiume e con le gambe al bagno. Un altro è già in acqua e sembra soffiarsi sulle mani, forse per scaldarsi, un altro ancora sul bordo del dipinto, emollemente sdraiato con un cagnetto contro la schiena. Poco più in là un bagnante in acqua si stringe nelle spalle per il freddo, mentre uno sta seduto sul prato con un largo cappello di paglia in testa. Sul fiume una barca trasporta una coppia sull'isola della Grande Jatte, tema di un'opera successiva di Serrat. Questo è il primo grande dipinto dell'artista, che disegnò studi a pastello per le singole figure utilizzando modelli dal vivo. Fece inoltre piccoli schizzaolio sul luogo, che poi usò per aiutarsi a progettare la composizione finale e a registrare gli effetti di luce e di atmosfera. La tecnica che qui usa Serrat non è quella puntilista, che in effetti il pittore non aveva ancora messo a punto, ma vediamo già in diverse aree della tela come l'artista applicò il colore con punti in contrasto tra di loro per creare un vibrante effetto luminoso. L'erba del prato, infatti, è il risultato insieme di molti colori, tra cui il giallo cadmio, l'azzurro cobalto, il blu oltremare, il magenta e il viola. La semplicità delle forme e l'uso di profili regolari, chiaramente definita dalla luce, ricorda il dipinto dell'artista rinascimentale Piero della Francesca, con il Battesimo di Cristo, conservato, come questo dipinto, all'interno della National Gallery di Londra. Nel suo modo di creare figure viste di profilo, Serrat potrebbe anche essere stato influenzato dall'arte egizia. Un particolare colpisce, manca infatti totalmente la comunicazione tra i personaggi che sembrano tutti persi nei loro pensieri. È come se ci trovassimo di fronte a una versione moderna del tema classico delle bagnanti, in cui giovani donne sono rappresentate mentre fanno il bagno sullo sfondo di un paesaggio rigoglioso e incontaminato. Nel dipinto Una domenica pomeriggio all'isola della Grande Jatte del 1886, il risultato è la rappresentazione di una scena di vita quotidiana. Un comune svago di una piccola foglia di parigini in un giorno festivo, che viene colto e fissato da sera in un attimo di sospensione. Non mancano elementi di satira. La signora in primo piano, acconciata secondo la moda, con un grande cuscino stretto dai fianchi, porta al guinzaglio una scimmia. Un'altra pesca, un signore suona la trombetta, nessuno comunica tra di loro. Ognuno sembra vivere per sé. L'immagine centrale in secondo piano della donna con la bambina divide idealmente in due la tela, separando i due principali gruppi di figure in primo piano. I corpi mostrati solo di fronte o di profilo sono impostati secondo le forme geometriche del cilindro e del cono e sono privi di plasticità. Una domenica pomeriggio sull'isola della Grande Jatte fu dipinta in due fasi, la prima tra il maggio dell'84 e il marzo dell'85 e la seconda dall'ottobre dell'85 al maggio del 1886. Serra raccontava di essere rimasto seduto nel parco per ore e ore, creando numerosi schizzi delle varie figure per perfezionare la loro forma prima ancora che pensassi iniziare la pittura vera e propria. L'artista aveva un approccio scientifico all'arte, elemento che alla percezione profondamente poetica dell'opera finita non appare, ma il processo creativo fu studiato e preparato nei minimi dettagli. Luce e colore sono i suoi veri soggetti, le sue vere materie prime, ben al di là della rappresentazione, qui come in altre opere. In questa slide possiamo vedere una ricostruzione fotografica del dipinto. In effetti questa tela si è molto prestata a continue ricerche sui soggetti rappresentati, creando spesso e volentieri situazioni anche divertenti. In questa foto invece vediamo l'isola della Grande Jatte oggi. Come possiamo ben notare l'effetto dell'atmosfera è ben diversa. Si è perso gran parte del gusto, del colore e anche dell'atmosfera della fine dell'Ottocento a Parigi. La famiglia di Paul Cézanne di origini italiane proveniva dal Piemonte con il cognome Cesana, successivamente francesizzato in Cézanne. Paul fu il primo genito di una famiglia che godeva di notevole agiatezza. Potè quindi frequentare le migliori scuole, ricevette un'istruzione umanistica ed ebbe per compagni fra gli altri Emil Zola, con il quale si legò in una profonda amicizia. Frequentò dal 1856 scuole di disegno, conseguendo un secondo premio in disegno e studiò musica suonando addirittura insieme con Zola in una piccola orchestra. Nel maggio del 1863 visitò sempre con Zola il Salon des Refusés, l'esposizione di dipinti rifiutati dal Salone Ufficiale, ma era attratto soprattutto dagli artisti che poteva ammirare all'Houvre. Qui si esercitava copiando i classici della pittura da Caravaggio al Greco, dai cinquecentisti veneti fino ai moderni della Croix, Dommier, Corot e Courbet. Nel 1865 e nel 1866 le opere dell'artista vengono ripetutamente rifiutate dal Salon. Questo è il periodo in cui Cézanne cerca uno stile personale, fuori da ogni accademia e da ogni scuola. Cézanne partecipa alla prima e alla terza mostra impressionista, nonostante accettasse e ne condividesse gli obiettivi non si identificava con esso, i suoi risultati infatti sono del tutto diversi. La rappresentazione della realtà assicura compattezza ed esalta i volumi. Del resto gli stessi impressionisti, Monet e Renoir, mostravano grande diffidenza verso la sua pittura. I continui insuccessi tanto alle mostre degli impressionisti quanto presso i saloni ufficiali, che continuavano a respingere regolarmente le opere che Cézanne si ostinava a rinviare, lo portarono ad un periodo di isolamento, aggravato anche dai contrasti con il padre, il quale già disapprovando la convivenza del figlio con Hortense, quando venne a conoscenza della nascita di un bambino, giunse addirittura a ridurgli gli aiuti economici, che fino ad allora non aveva mai mancato di fargli provenire. Cézanne continuò a mantenere rapporti soltanto con la madre e con l'amico fidato Zola. In questa foto, scattata all'interno del Museo Miró a Barcellona, si può notare una mappa in cui effettivamente il nome di Paul Cézanne mostra l'inizio di una grande trasformazione all'interno del mondo della storia dell'arte. Infatti, dalle ricerche di Paul Cézanne partiranno successivamente tutta una serie di esperienze che porteranno all'arte contemporanea. È noto che le esperienze di Picasso e di Braque del cubismo partono proprio dalle prime ricerche di Paul Cézanne, ma anche l'astrattismo, fonde alcuni punti della propria avanguardia nelle ricerche di Paul Cézanne. La Casa dell'Impiccato venne esposta alla prima mostra dell'impressionismo, Studio Nadar 1874. Pissarro, altro artista impressionista, lo sollecita infatti a schiarire la sua tavolozza e a dipingere en plein air, secondo la tecnica che in quegli anni utilizzano i pittori impressionisti. Con Pissarro, Cézanne si recca nel paesino di Auvers-sur-Oise, dove risiedeva il dottor Gachet, amico di Pissarro, anche egli pittore dilettante e nonché collezionista d'arte. Da ricordare che in questo stesso paese, vent'anni dopo, si recò Vincent Van Gogh per farsi curare sempre dal dottor Gachet e qui, nel 1890, l'artista morirà. Nel soggiorno Auvers-sur-Oise, Cézanne realizza diverse tele, tra questa appunto La Casa dell'Impiccato, il cui titolo rimane molto misterioso. Da ricordare che questa fu una delle pochissime tele a trovare un acquirente nella mostra del 74 all'interno dello studio Nadar. Fu infatti acquistata dal conte Doria di Torino. Lo stile del quadro è diverso dalle successive tele di Cézanne e testimonia l'influenza che in questa fase egli subisce da Pissarro. In seguito, l'attività pittorica di Cézanne lo porterà ad abbandonare completamente le ricerche del rapporto colore-luce per soffermarsi solo sul rapporto colore-forma. Al centro del dipinto è raffigurata una semplice casa di campagna. La facciata è alta e stretta e la porta in basso è spostata verso destra. Due finestre sono visibili in alto. A destra e a sinistra si notano i tetti di altre case. In primo piano una strada di montagna è ritagliata tra i prati. Di fronte alla casa si alzano due alberi spogli. Tra lo spazio delle due case si vede in lontananza un altro centro abitato e quindi delle colline all'orizzonte. Infine, a sinistra, al di sopra del tetto delle case, ondeggiano due piccoli alberelli. Il titolo dell'opera contribuisce a chiarire l'atmosfera triste del dipinto. Infatti, l'assenza di figure umane e gli alberi spogli creano un clima di inquietudine e di desolazione. Numerose sono le tele che Cézanne ha dedicato alla montagna di Saint-Victoire, soprattutto negli ultimi anni della sua vita. In questi quadri si sintetizza molto la sua ricerca pittorica. L'immagine è ottenuta solo con il colore, che viene steso a piccole pezzature con direzioni e orientamenti diversi. Prevalgono nel basso i toni arancio e verde, mentre il profilo della montagna è della stessa tonalità azzurrina del cielo. Ma il verde ritorna anche nel cielo come riflesso capovolto della terra verso l'alto. La scena viene rappresentata in modo molto semplice. Una linea orizzontale definisce l'orizzonte, dividendo il quadro in due parti distinte e separate. Nella parte inferiore il colore definisce la multiforme varietà dei campi coltivati, degli alberi e delle case. Nella parte superiore domina l'inconfondibile profilo della montagna. Di per sé il soggetto non ha una forma precisa, sono quindi elementi imprendiscibili della rappresentazione della luce e dell'aria. Socchiudendo gli occhi ed allontanandosi dal quadro, l'immagine si forma nella nostra percezione, come dotato di vera luce e di vera aria. Ma la visione è ferma, immobile, dotata di una sua precisa staticità, che rende questo quadro del tutto diverso dai quadri impressionisti. Cézanne non era interessato alle atmosfere impressioniste. Infatti il maestro fu protagonista del post-impressionismo. Si impegnò nel recuperare la forma attraverso una ricerca di progressiva semplificazione della figura. Nella montagna di Saint-Bitoire e negli altri dipinti della serie si notano bene le successive semplificazioni. In questo dipinto i volumi sono scomposti e paiono tasselli cromatici, che messi uno accanto all'altro costruiscono l'immagine. L'artista utilizzò, oltre che pennelli, anche spatole per creare campiture di colore più nette e geometriche. Non c'è la ricerca dell'attimo fuggente, né la rappresentazione della mobilità della luce. Il quadro tende ad una rappresentazione quasi astratta. Le macchie sono colori puri, che non permettono la riconoscibilità di un oggetto preciso. Le macchie di colore hanno un valore solo nel loro mutuo rapporto. Da qui all'arte astratta e cubista il passo è molto breve. Un percorso simile lo svolgeranno molti astrattisti del XX secolo, dalla forma alla stilizzazione segnica. Cézanne cercava invece una diversa costruzione dell'immagine, dalla forma al colore luce, senza però perdere la forma. E per questo egli non divenne mai un pittore astratto, pur anticipando anche questo sviluppo dell'arte del Novecento. Questa invece è una visione fotografica della montagna di Saint-Victoire oggi. Possiamo notare che l'aspetto fotografico, quindi reale, è totalmente diverso dalla ricerca, forma, colore che aveva intrapreso l'artista. Sullo stesso tema della partita a carte, Cézanne dipinse cinque differenti versioni. Due uomini in un'osteria di paese stanno giocando a carte davanti a uno specchio. L'immagine si presenta con uno schema fortemente geometrizzato, che conferisce a due personaggi dignità classica. Distorcendo la visione prospettica, Cézanne riesce ad ottenere il massimo grado di centralità, che risulti incredibile in una scena di vita vissuta. Tutta la terra è costituita da abbassamenti di tono dei colori blu, giallo e rosso. I due giocatori impegnati nella partita a carte sono isolati dagli altri clienti del locale. I due uomini sono forse contadini e uno dei due probabilmente si chiamava Alexandre. Il giardiniere della tenuta del padre dell'artista. Sono seduti ad un semplice tavolo di legno, sul quale è appoggiata una bottiglia di vino chiusa da un tappo di sughero. I giocatori di carte indossano semplici abiti, ma degnitosi. I giocatori di sinistra indossano giacca ed un cappello e, mentre valuta attentamente le sue carte, fuma una pipa. I giocatori di destra invece pare più giovane e veste in modo più disinvolto. Intorno a loro si osserva la decorazione delle pareti in legno e i vetri di una porta. Le pennellate si compongono a tasselli e talvolta si presentano solitarie e sintetiche, come il riflesso sulla bottiglia o il semplice tratto che descrive l'occhio infossato del giocatore di destra. Inoltre Cézanne fa un sapiente uso delle linee, con quella retta evidenzia la sicurezza dell'uomo alla nostra sinistra e con quella curva sottolinea l'incertezza di quello di destra, che probabilmente perderà la partita. Nel dipinto Cézanne non rende solo un'impressione, ma anche una descrizione del senso interno all'azione, come se fosse la sintesi destinata a permanere nella mente, fissata solo sotto forma di ricordo. Giocatore di carte di Paul Cézanne fu proprietà di diverse collezioni. Inizialmente fu parte della collezione Amboise Voyard, grande gallerista. Dal 1911 passò ai musei statali e quindi al Louvre e dall'86 assegnata al Museo d'Orsay. Cézanne creò cinque dipinti con lo stesso tema. L'opera esposta presso il Museo d'Orsay è particolarmente sobria, evidenzia bene i risultati della ricerca dell'artista. Uno studio preparatorio dell'opera è stato venduto nel maggio del 2012 al valore di oltre 19 milioni di dollari. Una delle versioni ufficiali, la quinta, invece risulterebbe essere uno dei quadri più pagati al mondo. Nel 2011, infatti, la famiglia reale del Qatar l'avrebbe acquistata per la cifra incredibile di 250 milioni di dollari. Per concludere, è giusto ricordare le influenze dell'artista Cézanne sulle generazioni successive. Dalle ricerche di Cézanne si arriverà al cubismo di Braque e Picasso. E anche artisti come Mondrian riprenderanno concetti tipici della pittura dell'artista francese, dell'astrattismo, come qualcosa si può notare anche nell'espressionismo. Paul Gauguin, pittore francese, è stato uno dei protagonisti della fase artistica che definiamo post-impressionismo. Egli incarna un altro archetipo di artista, l'artista che vuole evadere dalla società e dai suoi problemi per ritrovare un mondo più puro ed incontaminato. Gauguin, al pari di tutti gli altri artisti e poeti francesi di fine secolo, vive sullo stesso piano la sua vita privata e la sua attività artistica. E le vive con quello spirito di continua insoddisfazione e di continua ricerca di qualcos'altro, che lo portò a girovagare per mezzo mondo, attratto soprattutto dalle isole del Pacifico del Sud. Nella pittura di Gauguin è possibile trovare una sintesi delle principali correnti che attraversano il variegato e complesso panorama artistico della pittura francese di fine secolo. Gauguin partì dalle stesse posizioni impressioniste, comuni a tutti i protagonisti delle nuove ricerche pittoriche di quegli anni. Superò l'impressionismo per ricercare una pittura più intensa sul piano espressivo. Fornì dunque, soprattutto per i suoi colori forti e rintensi, stesi a compiture piatte, notevoli suggestioni agli espressionisti francesi del gruppo dei FAUV e dei simbolisti. Il Cristo giallo è una tela di intenso valore mistico. La scena è dominata da un grande crocifisso, come spesso compaiono nella campagna, sotto il quale tre donne, nei tradizionali costumi bretoni, sono inginocchiate a pregare. Fa da sfondo un paesaggio rurale che trasmette un sentimento di calma e di serenità. La composizione riprende quello della crocifissione, comune a tante immagini medievali, dove però al posto della maddalena, della madonna e degli apostoli, vi sono alcune contadine bretoni, in abito tipico, con cuffia bianca, ampio abito scuro e grembiule. Le donne pregano il crocifisso con il capo Chino durante l'Angelus, recitato ogni giorno alle 6, alle 12 e alle 18. Un prato in discesa viene interrotto da un muretto a secco scavalcato da un uomo. Alcuni alberi punteggiano i confini dei campi e in lontananza si alzano le colline dai profili ondulati. Tra gli alberi si intravedono alcune abitazioni sparse sul declivio, il cielo è azzurro e sgombro di nubi. Il significato è chiaro, rivivere nell'esperienza quotidiana il mistero del sacrificio, come dimensione sacra della rinascita della vita. Da questa visione proviene anche il colore giallo che domina nel quadro, assumendo il valore di unione simbolica tra le messe di grano e il messia. Dal punto di vista dello stile, l'opera riprende il cloasonisme, ovvero uno stile che, prendendo ispirazione dalle vetrate gotiche, tende a delimitare le figure con spessi tratti neri, come le piombature che circondano le figure delle vetrate, e a campirle, cioè a colorarle, con colori uniformi e saturi. Paul Gauguin rappresentò la semplice religiosità della tradizione contadina delle genti bretone. L'artista, in fuga dalla civiltà e dalle difficoltà esistenziali, si rifugiò nella società arcaica e semplice della campagna, come farà in seguito presso le isole della Polinesia francese. Con il giallo che colore il corpo di Cristo, Paul Gauguin volle forse simboleggiare il dolore umano. Sicuramente l'artista utilizzò più volte la figura di Cristo con il quale si immedesimava per esprimere la propria sofferenza esistenziale. Il ciclo di crescita del grano, fonte di vita, era paragonato al ciclo religioso della vita di un cristiano. Cristo partecipa quindi, tramite questo riferimento cromatico, alla vita quotidiana dei contadini. Nel 1888 Paul Gauguin ritrae il suo amico Vincent Van Gogh mentre dipingeva un vasso di girasoli. Quando l'artista olandese vide il quadro, stupito ed offeso, esclamò «Sono proprio io? Ma diventato pazzo!» Pare che Gauguin la scena se la sia immaginata e che in realtà non vide mai Van Gogh dipingere girasoli. Vincent, infatti, aveva già finito le tele con questi soggetti quando Gauguin lo raggiunse ad Arles, nel sud della Francia. Vincent si arrabbiò parecchio quando vide la tela e scrisse al fratello Theo che Gauguin l'aveva dipinto con un'espressione da matto. Tra i due nacque un rapporto alquanto bizzarro e per certi versi squilibrato. Paul possedeva una forte personalità e un carattere distante e selvatico che lo rendeva talvolta egoista e interessato quasi esclusivamente alla realizzazione dei propri progetti. Van Gogh, invece, era fragile, modesto, con poca fiducia in se stesso e nelle sue possibilità. Vincent era molto premuroso verso Gauguin. Gauguin gli riservò una stima profonda e un affetto che si rivelerà eccessivo e a tratti soffocante. Le differenze tra i due sono evidenti anche nello stile pittorico. Così, mentre Vincent dipingeva solo dal vero, cercherà sempre la verità della natura. Paul Gauguin, invece, preferisce la pittura da studio e una visione caratterizzata da colori sintetici e simbolici. E tra i due c'è la figura di Theo, fratello di Vincent, punto di riferimento per entrambi. L'ampia raccolta delle lettere intercorse tra Paul, Vincent e Theo rappresenta una testimonianza fondamentale di quel legame artistico e umano, evidenziando i più intimi dettagli della loro personalità, del loro carattere e loro pensieri sull'arte, sulla pittura e sulla vita. Theo provvedeva ai bisogni di entrambi, come un padre affettuoso, inviando loro denaro, vendendo le loro opere e procurando loro alcuni contatti con collezionisti e galleristi. Gauguin, lasciatosi convincere dall'amico Theo, giunse ad Arles, ma non gli piaceva e addirittura la definì il più sporco buco del sud. Il suo disagio si acquine i giorni successivi di fronte alla completa disorganizzazione di Vincent. Il loro distacco, già iniziato subito dopo l'arrivo di Gauguin ad Arles, culminò nel momento in cui Paul decise di detrarre Vincent nell'opera. Van Gogh fu quasi disgustato da questo quadro. Gauguin lo ritrae mentre dipinge i gerasoli, ma invece di mostrare il quadro del suo amico e quindi mostrare e rendere omaggio alla sua arte, raffigula solo i gerasoli reali, nascondendo la terra di Vincent. Nel dicembre dello stesso anno, Gauguin decise di fare le valigie e di andare lontano. Vincent, troppo fragile per sopportare questo abbandono, si tagliò l'orecchio in un momento di follia. Dopo la tanta attesa e burascosa convivenza, le due strade si separeranno per sempre. Gauguin si recò prima a Parigi e poi in Bretagna, mentre Van Gogh iniziò il lungo calvario in manicomio. Infine, nel pomeriggio del 27 luglio del 1890, Vincent verrà colpito da un proiettile al petto. Non abbiamo la certezza se auto-inflitto, ma questo mise fine alla sua breve e dolorosa esistenza. L'opera, da dove veniamo, chi siamo, dove andiamo, del 1897, pone i massimi quesiti esistenziali dell'uomo e fu dipinta dell'artista Attaiti in un momento molto delicato della sua vita. Prima di un tentativo non riuscito di suicidio, l'artista era malato, aveva seri problemi al cuore e soffriva di sifilde, in lotta con le autorità locali ed isolato sia fisicamente che artisticamente. Ad aggravare le cose giunse a Gauguin la notizia della morte della figlia prediletta, Aline, avvenuta pochi mesi prima. Il dolore per la perdita spinse l'artista a creare un'opera di grandi dimensioni, la più grande tela della sua produzione, che fosse una riflessione sull'esistenza, un vero e proprio testamento spirituale. La Terra si presenta a sviluppo orizzontale con un percorso di lettura che va da destra verso sinistra. Lungo questa direzione, Gauguin dispone una serie di figure che ripropongono in sostanza le allegorie dell'età della vita. Dal neonato, nell'angolo a destra, si giunge alla donna scura a sinistra, passando attraverso le varie stagioni della vita. La donna al centro, che quasi divide il quadro in due, simboleggia il momento della vita in cui si raccolgono i frutti, ovvia allegoria del momento della procreazione. La vecchia in fondo, a sinistra, già presente in altre composizioni di Gauguin, nella sua posizione fetale, con le mani accanto al volto, in realtà non simboleggia solo la vecchiaia, ma soprattutto la paura della morte. Il percorso della vita si svolge in un giardino, che ricorda l'Eden, come dire che, secondo Gauguin, in fondo la vita e la realtà non sono poi male, se non fosse per l'angoscia di non sapere con certezza a cosa serve tutto ciò. In questo quadro, il senso di inquietudine e di stabilità tipico dell'artista e anche uomo, ci appare alla fine come un percorso senza fine, perché volto a traguardi che non sono di questo mondo. E così il suo fuggire dall'Occidente, verso i paradisi dei mari del Sud, in fondo non è altro che la metafora, non figurata ma reale, della ricerca, perenne, della nostra serenità. Come si è detto per Cézanne, ma anche per altri artisti del post-impressionismo, anche Gauguin sarà influente e determinante per le generazioni successive, come per esempio per i Fauves, di Matisse, o per i Nabisse. Vincent Willen Van Gogh nasce a Zundert in Olanda il 30 marzo del 1853 e muore a soli 37 anni a Dover-sur-Oise il 29 luglio del 1980. Autore di quasi 900 dipinti e più di 1000 disegni, senza contare i numerosi schizzi non portati a termine. Tanto geniale quanto incompreso in vita, Van Gogh influenzò profondamente l'arte del XX secolo. Dopo aver trascorso molti anni soffrendo di frequenti disturbi mentali, morì all'età di 37 anni per una finita d'arma da fuoco, molto probabilmente auto-inflitta. In quell'epoca i suoi lavori non erano molto conosciuti né tanto meno apprezzati. Theo Van Gogh ammirò suo fratello Vincent per tutta la sua vita, ma la comunicazione fra i due fu sempre molto difficile. Anche prima che Vincent diventasse un bene e proprio artista. Le attrezze fra i due furono causate soprattutto da differenti visioni dell'arte e del mondo. Il fatto che Theo abbia conservato tutte le lettere ricevute dal fratello ci induce a credere che il rapporto di corrispondenza fra i due fosse alimentato da Theo. Vincent infatti non conservò le lettere di Theo, motivo per cui l'epistolario dei due risulta composto per lo più di lettere di Vincent che dalle risposte di Theo. Dalle lettere che i due si scambiavano ci vengono molte informazioni sulla vita del pittore e sul suo processo creativo. A Theo, che gli procurava il venaro e i mezzi per vivere, Vincent raccontava delle sue esperienze quotidiane e dei suoi progetti e inviava bozzetti e disegno dei suoi lavori. A confermare la venerazione di Theo per Vincent c'è anche il fatto che Theo abbia deciso di chiamare suo figlio primo genito Vincent Villers, come il fratello. Per congratularsi della nascita Vincent di Pinze per i neogenitori il ramo di mandorlo fiorì. Vincent Van Gogh è considerato oggi il pittore malato per eccellenza. La natura della sua malattia che si manifestò prima dei 30 anni è stato oggetto di numerose ricostruzioni e interpretazioni diagnostiche fondate soprattutto sulle numerose lettere che Vincent stesso scrisse al fratello Theo. Nel momento in cui le sue crisi, caratterizzate soprattutto da allucinazioni e attacchi di tipo epilettico, si manifestavano, l'artista cadeva in uno stato di profonda depressione, ansietà e confusione mentale, tanto da renderlo totalmente incapace di lavorare. Da prima si pensò che si trattasse di epilessia, ma questa ipotesi rimane solo in parte convincente, in quanto non è provato che Van Gogh soffrisse dei sintomi che caratterizzano la patologia. Questa prima ipotesi diagnostica fu probabilmente formulata non in base ai sintomi che distinguevano la sua malattia, ma del ciò che Van Gogh scrisse di sé, solo un pazzo o un epilettico. Sulla base soprattutto delle allucinazioni di cui soffriva, si ipotizzò che l'artista potesse essere schizofrenico, ma anche questa supposizione pare soddisfare solo in parte i criteri che rientrano nel quadro della schizofrenia. È noto inoltre che, come altri numerosi artisti dell'epoca, come Vanet, Egaet, Toulouse, Lutrec, anche Vincent facesse uso di una bevanda alcolica decisamente tossica, massa in voga nella Francia di quel periodo, l'assenzio. Questo liquore al colore verde intenso dà effetti dannosi sul sistema nervoso in grado di provocare allucinazioni visive ed attacchi emilettici. Quindi, come sostengono numerosi studiosi, l'uso di assenso di altre bevande alcoliche associato ad una cattiva o scassa nutrizione devono aver aggravato i sintomi della sua malattia. Un anno prima della sua morte, Van Gogh, dopo una violenta discussione con il pittore amico Gauguin, si recise all'orecchio sinistro per poi regalarlo a una prostituta. Diversi autoritratti testimoniano un episodio di automutilazione che contrassegnò la sua malattia. La produzione artistica più importante di Vincent Van Gogh appartiene agli ultimi cinque anni della sua vita, quindi dal 1885 al 1890. Il dipinto capolavoro che appartiene a questa produzione degli ultimi cinque anni è Il Mangiatore di Patate del 1885, conservato oggi al Van Gogh Museum di Amsterdam. Questo dipinto mostra, all'interno di una povera stanza, alcuni contadini che consumano il pasto serale, servendosi da un unico piatto di patate, mentre una di loro sta versando il pezzo. Van Gogh è molto legato a questo soggetto, in quanto si sente come uno di loro. Anche i contadini come lui soffrono, ed egli trova ingiusto il fatto che nonostante tutti i loro sforzi e i loro sacrifici debbano vivere in un modo così misero. Vincent ha voluto far capire che questa povera gente, alla luce di una lampada, mangia patate, servendosi dal piatto con le mani, con le stesse mani che hanno zappato la terra, dove quelle patate sono cresciute. Il quadro dunque evoca il lavoro manuale e lascia intendere che quei contadini hanno meritato onestamente di mangiare ciò che mangiano. La luce provenendo dall'alto, colpendo perciò soltanto alcune parti, provoca contrasti pianoscurali e accentua la caratterizzazione dei volti, delle mani, degli abiti. Singolare è la rappresentazione del volto e delle mani, dipinti in modo caricaturale. Con questo il pittore vuole esagerare e intensificare la realtà. La caricatura e la deformazione sono infatti una esagerazione della realtà stessa, al fine di renderla più intensa. Per quanto riguarda il tema, il riferimento è alla pittura realista di Millet, suo punto di riferimento pittorico, e per quanto riguarda i personaggi e il vagone di terza classe, di Honoré Dommier. Il colore è che richiama le tecniche fiamminghe in monocromatico, ciò fa sì che l'occhio non sia appagato, ma percepisca la realtà attraverso l'interiorità di Van Gogh. Da notare la struttura conica base ellittica, dove i protagonisti formano l'ellisse e la ragazza di spalle al centro e sotto il punto luce, ovvero il vertice del cono. Nel 1888, dopo due anni di permanenza a Parigi, Van Gogh lascia la capitale e si trasferisce ad Arles. È un periodo molto produttivo, in questi anni realizza 200 opere, ma questa velocità di realizzazione proviene soprattutto dal suo distidio interiore. Nei paesaggi dipinti in questo periodo, l'artista esalta la nota dominante di quanto si mostra ai suoi occhi e cerca di cogliere e di esprimere l'assenza del reale, puntando su un colore che racchiuda tutta l'energia vitale possibile. Si tratta spesso del giallo, grazie al quale si percepisce la luce e il calore. In questo luogo Van Gogh ha il desiderio di costruire una comunità di artisti che possono lavorare insieme. Egli si aspetta molto dalla collaborazione di Gauguin, ma il progetto non ottiene l'esito sperato e anzi, durante il soggiorno ad Arles si verifica un peggioramento delle sue precarie condizioni mentali. Il rapporto con Gauguin si fa presto difficile e il pittore parigino abbandona il compagno. Per la delusione Vincent giungerà a un estremo gesto di autolesionismo, tagliandosi l'orecchio sinistro. In questi anni l'artista dipinge le versioni del Ponte di Langlois. Tutte le versioni del Ponte di Langlois furono dipinte da Van Gogh durante il soggiorno ad Arles, in Provenza, dove il pittore si era legato alla ricerca del sole e di se stesso, ispirato anche dalla pittura giapponese. E' appunto lo stile delle stampa orientali che si deve alla composizione e la gamma di colori di queste terre, che raffigurano il ponte elevatoio sul canale di Arles, con o senza lavandaie, e sotto diversi punti di vista. La prima versione del dipinto è quella conservata a Outerlois. Raffigura il ponte con delle lavandaie del lavoro in primo piano, mentre un piccolo calesse attravesse il ponte. Un piccolo filare di pioppi sullo sfondo a destra accentua notevolmente la profondità e i colori brillanti danno la sensazione di un sereno mattino di primavera estate. Oltre ai dipinti a oli, Van Gogh realizza anche innumerevoli schizzi e disegni sullo stesso soggetto, presenti anche in alcune lettere. Il ponte prendeva il nome da un vecchio guardiano. I girasoli sono una serie di dipinti ad olio su tela realizzati tra il 1888 e il 1889, tra i soggetti preferiti dell'artista e sono tra le opere più riconoscibili e note. Il dipinto mostra i girasoli in ciascuna fase della fioritura, dal bocciolo all'appassimento. Anche se alcuni hanno interpretato le forme contorte dei petali e degli steli come un segno di tormento, traspare invece dalle lettere al fratello che questo soggetto diede gioia e ottimismo come simbolo del clima temperato del sud della Francia. I vari stadi di decadimento potevano simboleggiare i cicli di vita e morte. In seguito provò a mettere i fiori in un vaso giallo, su uno sfondo di una tonalità dello stesso colore e si accorse che la pittura sembrava irradiare luce e allegria. Il colore per lui era già un modo di esprimere emozioni piuttosto che un modo per rappresentare la realtà. L'artista stendeva il colore con pennellate rubide e dense, spesso appiccicandoli uno sopra l'altro finché i pigmenti erano ancora umidi. A volte procedeva a scalfire la superficie fresca usando anche l'impugnatura del pennello. Si tratta quindi di un approccio scultorio alla pittura, in cui le ombre e le luci sono date oltre che dai pigmenti, ma dallo spessore dell'impasto cromatico. L'effetto che si otteneva era quello di una espressività mai vista prima. La serie fu innovativa anche per l'uso intensivo del giallo cadmio, un colore di invenzione recente che l'artista amava usare. Nella serie del girasolo in vaso c'è un netto contrasto tra la piattezza del fondo e del vaso e i fiori che invece sembrano contoncersi in tutte le direzioni. L'artista si firma con il nome di battesimo, spesso sul vaso, come i grandi maestri del passato. Questo non è da considerarsi un gesto di presunzione, tutt'altro è da considerarsi uno stato di grande umiltà. Queste sono le sette versioni, giunte a noi soltanto in sei, in quanto la versione conservata in Giappone è andata distrutta durante la seconda guerra mondiale. Il dipinto mostra la camera da letto dell'artista, dipinta nell'attesa dell'arrivo ad Abbe di Paul Gauguin, amico appunto di Vincent. L'incontro avrebbe dovuto dar luogo alla nascita di un circolo artistico. La descrizione dell'ambiente è meticolosa, sulla destra vi è un letto ripreso dai piedi, sulla paretta accanto al quale sono appesi quattro quadri su due ordini. A sinistra del letto c'è una coppia di sedie ed un tavolino all'angolo sopra il quale nel muro si apre recentrata sulla destra una finestra in cui i vetri opachi ci negano il panorama. La ripresa infatti si ferma solo all'interno, piccolo ma spazioso ed arioso. I muri hanno un colore verso il celeste che partendo da destra via via si digrada verso sinistra. Appesi ai muri possiamo vedere cinque quadri, un asciugamano di colore verde e alla sinistra della finestra uno specchio. Nei quadri alla parete possiamo riconoscere il volto di una donna e di un uomo, probabilmente un autoritratto. Sul letto il cappello di paglia con il quale si ritrarrà spesso e gli sarà anche molto utile per il clima di Arles. I toni del verde e del celeste mirano a dare un senso di tranquillità e comoda serenità, rinforzati dalla figurazione pittorica che si sofferma sul grande letto e sui pochi oggetti nella stanza. Rinforzati dalla figurazione pittorica che si sofferma sul grande letto e sui pochi oggetti nella stanza, ordinata e pulita. Van Gogh avrebbe voluto esprimere nell'opera un senso di tranquillità, ma il risultato è un senso di angoscia dovuto alla linea nera che contorna gli oggetti, ai colorinetti e privi di ombre e alle pareti e al pavimento inclinati, quasi sul punto di pronnare, dando la sensazione che tutto stia lentamente scivolando verso sinistra. Di questo sensazionale dipinto, vero e proprio emblema della produzione artistica di Vincent Van Gogh, abbiamo anche altre due versioni, entrambe nello stesso anno, del 1889, e sono esposte una al Museo d'Orsay a Parigi e l'altro all'Art Institute of Chicago. Quest'ultima versione, purtroppo, è in cantive condizioni, in quanto è stata rovinata da una pessima essiccazione del colore. Alla fine del 1888, la convivenza tra Vincent e Gauguin finì in tragedia. Dopo un progressivo e inesorabile logoramento dei rapporti con l'amico, il 23 dicembre, Vincent si recisse l'orecchio sinistro con un rasoio, consegnandolo poi a una prostituta alla quale si era affezionato. Dopo due settimane di degenza all'interno dell'ospedale, Van Gogh si ritrasse numerose volte con l'orecchio fasciato. Questo autoritratto con l'orecchio bendato, esalmente posseduto da Van Gogh, pervenne poi a Tanguy di trovare di un negozietto di colori a Parigi che accettava in forma di pagamento i quadri offerti dall'artista, quando ancora nessun mercante d'arte gli dava credito. Nell'autoritratto predominano i colori freddi che danno una nota ancora più malinconica accentuata dall'utilizzo di pennellate accidentate che indugiano su ogni osso. Il volto dell'artista è smunto e ossuto con la carnagione definita da un giallo cereo e il suo sguardo ma tutto è perso nel vuoto sembra quasi affondare nei mondi immaginari dove gli può eludere quell'etichetta di foglie che la società ormai gli ha imposti. Il capotto abbottonato e il cappello indossate anche in casa sembrano alludere all'assenza di un impianto di riscaldamento che forse per le cattive condizioni economiche l'artista non poteva più permettersi. Non va tuttavia dimenticato anche il significato più profondo di protezione da un mondo ormai ritenuto dall'artista nemico. Sulla parete verde alle sue spalle si notano un cavalletto ricante una tela appena bozzata ed una stampa giapponese. L'artista era un appassionato del genere che gli forniva motivi di ispirazione per i suoi dipinti. Questa stampa dei colori vivaci e gioiosi contrasta con la vistosa fascia bianca applicata sulla ferita che appare a destra invece che a sinistra a riprova che l'autoritratto fu eseguito davanti a uno specchio. Questo ritratto conferma che l'esperienza con Gauguin era stata veramente estrema per l'artista che trascorrerà il suo ultimo anno e mezzo di vita in una solitudine in parte volontaria e in parte forzata. In questa foto possiamo vedere la cameretta dell'istituto per animati mentali di Sarraigny dove Vincent rimase per un anno dipingendo molti delle sue ultime opere. L'artista uscì da questo istituto nel 1890 e morì solo due mesi dopo. Sin dal suo arrivo ad Arlo nel 1888 la rappresentazione degli effetti di notte diventa una preoccupazione costante per Van Gogh. Nel periodo di ricovero in manicomio l'artista realizza Notte stellata opera che si coglie con immediatezza apparentemente semplice ma di natura molto complessa. In primo piano l'artista ha dipinto un alto cipresso scuro una piccola valle e situato un paesino simile a un villaggio olandese in cui era nato dove spicca una chiesa dominata dalla cuspide di un campanile. Sullo sfondo alte colline che tagliano la terra diagonalmente così che la maggior parte della superficie pettorica è occupata dalla falce di luna e dal vasto cielo stellato. Nel periodo di realizzazione di questa tela i quadri di Van Gogh si caricano di significati simbolici il cipresso rappresenta quasi l'ispirazione all'infinito la forza della pace cercata specchio dell'anima del pittore ma il cipresso è anche un simbolo legato alla morte che lo raggiungerà da qui a breve. Il paesaggio a prima vista idilliaco e riconciliante manifesta invece la personalità tormentata di Van Gogh. Le colline trattate con le linee ondulate e parallele sembrano minacciose acque ribollenti mentre il cielo vorticoso con stelle più o meno splendenti pare percorso da pericolose palle di fuoco trascinate dalla corrente dello spazio. Questo effetto è dato dall'artista grazie alla particolare tecnica pittorica. Il colore di consistenza molto fluida è steso con uno spessore minimo a piccoli tocchi ravvicinati lasciando a tratti piccoli spazi vuoti dai quali si intravede anche la trama della terra sottostante. Van Gogh ha segnato linguaggio emotivo alla notte e alla natura che li ha portati lontano dalle loro affarenze reali. Dominato dalle rivaggi blu e gialli applicati con verde gestuale e mediardezza Notte Stellata dimostra anche quanto sia inseparabile la visione di Van Gogh dalle nuove procedure di pittura che aveva ideato in cui colore e pittura descrivono un mondo al di fuori dell'opera d'arte mentre comunicano il loro proprio stato come semplicemente colore e vernice. Vincent amava dipingere di notte e un'altra visione di un paesaggio stellato era stata realizzata l'anno precedente nel 1888 e si tratta dell'incantevole Notte Stellata sul Rodano conservata oggi al Museo d'Orsay a Parigi. Anche in questo dipinto le pennellate sono dense l'approccio è scultorio ed è incredibile la suggestione di queste riflessi di luce sul fiume. Sappiamo che Vincent amava dipingere durante la notte ed era anche il solito indossare un cappello di paglia lo stesso che abbiamo visto rappresentato all'interno della camera da letto ad arm con delle candele accese sulla tesa. Questi fotogrammi sono ripresi dal film Drama di vivere. Generalmente questo quadro viene considerato il testamento pittorico dell'artista. Una rappresentazione finale dello stato d'animo tormentato e angosciato di Vincent. La tela è uno strasiante grido di dolore accentuato dal ritmo vorticoso delle pennellate mediante le quali egli proiettua il proprio stato d'animo e la propria dimensione di sofferenza sulla realtà circostante. È una tempesta quasi come un presentimento di lutto che si sta per abbattere su un campo di grano attraversato dai tre sentieri dai quali si leva cupo e tenebroso uno stormo di corvi neri in un basso volo disordinato. È noto che l'artista nutriva un profondo rispetto nei confronti delle forze della natura e questo spiega perché dipinse cieli agitati in molte delle sue opere. Egli riteneva infatti che questo soggetto fosse dotato di un incalcolabile potenziale artistico se venisse prodotto su una tela. Il campo di grano smorso senza pietà dal vento è stato realizzato mediante vere e proprie frustrate di giallo mentre il cielo inizialmente terzo è offuscato dall'intenso colore nero delle nubi che piano piano si calano ostili e minacciose. La luminosità del dipinto data dal cielo azzurro e dal grano dorato sta per soccombere vinta dall'oscurità del colore nero che inesorabile l'avvolgerà completamente. All'artista non rimane altro da fare che contemplare impotente l'evento che si sta compiendo sotto i suoi stessi occhi. Infatti nonostante la sua anima continuasse ad arde di quel fuoco divoratore che da sempre lo aveva caratterizzato l'artista ormai non vedeva più un futuro per la propria esistenza. Vincent ventuno giorni dopo morirà colpito da un colpo di pistola. Non siamo certi se è auto inflitto. Il fratello Teo lo raggiungerà solo la mattina dopo. I due riuscirono a trascorrere l'intero ventotto luglio insieme. Uno sbagliato pacificamente a letto a fumare la pipa e l'altro costantemente al suo fianco. Vorrei che fosse la fine sembra siano state le ultime parole dell'artista. Dopo la morte di Vincent Teo a Franto scriverà alla madre era veramente mio fratello e in queste parole di disperazione che probabilmente vennerà chiuso tutto il senso del fortissimo legame tra i due fratelli. In questa foto vediamo le due tombe dei due fratelli uno accanto all'altra a Overs su Lois. Teo morirà solo un anno dopo la morte di Vincent dopo essere caduto in assoluta apatia per un mese intero ebbe un crollio nervoso e fu ricoverato in diverse cliniche per allenati. Morì poi in una casa di cura a Utrecht il 25 gennaio del 1891 appena sei messi dopo la morte di Vincent all'età di soli 33 anni.